Mi piace sottolineare che un teatro, uno dei teatri più antichi della nostra città, il Teatro Argentina, è stato appunto ripreso il lustro che gli si doveva perché da 300 metri quadri che prima aveva adesso invece ne contano 1500 metri quadri, quindi uno spazio che può essere goduto da tutti i cittadini romani e soprattutto un ringraziamento va anche alle sovrintendenze che hanno collaborato con il Comune di Roma rispetto all'arredo urbano davanti al Teatro Argentina. Un ringraziamento chiaramente anche ad Acea e Italgas, qui sono state cambiate tutti quanto il sistema di rete sia di distribuzione del gas che della rete elettrica, quindi è stato un lavoro molto minuzioso e un ringraziamento anche al gabinetto del sindaco che insieme al dipartimento settimo attraverso dei sopralluoghi, numerosi sopralluoghi abbiamo seguito attentamente tutti i lavori in corso.